Del più famoso bombardiere britannico della seconda guerra mondiale voglio prendere in considerazione soprattutto una parte molto interessante che sicuramente è lo studio della sua produzione in serie. Ogni singola parte del bombardiere fu studiata molto approfonditamente da un ufficio specifico della Avro detto Pre-Production Department. In questo ufficio vennero studiate tutte le operazioni connesse alla produzione del velivolo. Il Lancaster era composto da circa 50.000 parti per la produzione delle quali erano richieste circa mezzo milioni di operazioni. Per ogni parte fu studiata la quantità di operazioni necessarie con i relativi tempi. I disegni delle singole parti con le operazioni necessarie e i tempi richiesti furono distribuiti ai costruttori abilitati a costruire quella determinata parte. È da notare che prima di questo ciascun disegno veniva esaminato da un ingegnere esperto della produzione di quel tipo di parte, ingegnere che decideva su come dovesse essere costruita quella parte, gli utensili che fossero necessari alla sua costruzione, decideva inoltre lo spazio richiesto nella fabbrica per costruirla e se quella parte fosse costituita da sottoparti come queste dovessero essere eventualmente costruite in subappalto. La scelta dell'attrezzatura necessaria veniva oculatamente messa in campo e contemporaneamente veniva realizzato un libretto di istruzione di come dovessero essere eseguite le diverse operazioni della produzione. Se dai reparti di produzione arrivavano dei suggerimenti riguardo a un miglioramento della produzione questi venivano prontamente esaminati dall'ingegnere addetto e implementati naturalmente. È da notare che ciascun disegno veniva anche esaminato per preparare una completa lista dei materiali che fossero occorrenti alla realizzazione di quella parte, con le ore di lavoro richieste per la realizzazione. produzione in serie dell'Ancaster coinvolgeva solo il 10% di manopera specializzata, il restante 90% era costituito da operai generici di cui il 40% erano donne. Già da notare che attraverso questa preparazione si ridussero i tempi di produzione di circa un terzo. La produzione veniva divisa in tre macro parti principali che erano la fusoliera, le ali e la coda. L'ala era formata da 14 parti e non comprendeva la sezione mediana che veniva considerata invece facente parte della fusoliera. La fusoliera era suddivisa in sette sezioni e la coda in otto sezioni. Tutte le parti componenti erano accompagnate istante per istante da un foglio che segnalava i materiali, le parti diffuse, le parti forgiati che la componevano, quali erano state implementate, quale no, eccetera, eccetera. Ad esempio l'ala dell'Ancaster era costituita da due longheroni con sezioni ad uo ed anima in lamiera. Le solette erano ricavate a mezzo di macchine utensili da profilati di tipo AL che venivano lavorati in un reparto in cui le macchine erano allineate longitudinalmente per far sì che le barre potessero essere facilmente passate da una macchina all'altra, sia in un senso che nell'altro. Ad esempio queste macchine utilizzavano dei morsetti idraulici che potevano essere messi in presa in pochi minuti, mentre nella organizzazione per una normale produzione non di tipo in serie sarebbe occorso dieci volte questo tempo solo per mettere in presa i morsetti. Durante la lavorazione di ogni singolo pezzo erano previste dei controlli in maniera tale da vedere se quel pezzo fosse dotato già di quanto occorreva per le successive tre lavorazioni che lo avrebbero coinvolto, in maniera da non bloccare successivamente il lavoro. Prima del loro completo montaggio si montavano gli accessori e gli equipaggiamenti dell'ala, come ad esempio i serbatoi. Passando a un'altra macro parte, perché naturalmente devo fare semplicemente degli esempi, perché altrimenti saremo qui veramente una giornata per descrivere quello che accadeva effettivamente, passiamo alla fusoliera di queste tre macro parte a cui accennavo. Di questa la parte più importante è la sezione centrale, in particolare il pavimento che era costruito per sopportare in gran parte il carico delle bombe. La costruzione di questo pavimento veniva effettuata verticalmente per risparmiare lo spazio all'interno della fabbrica. Il lamierino di cui era costruito veniva sistemato su elementi a C della struttura che serviva appunto al montaggio e all'assemblaggio. Completavano il supporto strutturale del pavimento, dopodiché si installavano le strutture di ridondanza e infine si applicava il lamierino di contenimento del pavimento stesso. Man mano che la struttura di fusoliera era in fase di completamento veniva aggiunta anche la circuitazione elettrica. Nel frattempo nelle due semiali venivano montati i quattro motori Merlin con le rispettive gondole motrici. Ovviamente non posso scendere e nei particolari come dicevo. A questo punto unite le tre macro parti il Lancaster veniva trascinato nel campo di aviazione attivo al cavannone di assemblaggio ultimo per iniziare sia le prove di terra e poi successivamente quelle in volo. Questa organizzazione permetteva un risparmio di tempo e danaro di circa il 94% rispetto a una costruzione classica degli anni trenta. Anche semi pre serie.